Maestro, prenda nota per favore, quel che voglio non è solo una canzone, ma la forza smisurata, una passione esagerata, una fiamma che sta nel mio cuore. Se tu domandi ad un amico che ora so, quello che guarda l'orologio fa è 11, se domandi al tuo moglie che ora so, perché che devi fare? Da lontano mi sembrava meglio, scusi. Sì, è... In America hanno inventato la banca del seme, noi non c'hiamo i soldi manco per fare un ospedale e figuriamo se è una banca. Abbiamo collocato un bancomat del seme, abbiamo fatto il bancomat del seme, sì, funziona come il bancomat, uguale. Solo che invece vi mette la tesserina, c'è stanno le creature, non mi fate fare gesti. Vi mette un'altra cosa, è il bello che c'è pure lo scontrino. Grazie ad essere venuto, te vieno pure per cuore. Mi moglie è talmente maniaca dell'ordine, io mi alzo la notte, vado a pisciare, torno a letto, mi rifatte il letto, ma che ne sai. Nel blu, degli occhi tuoi blu, felice di stare lassù. Calabria. Spero. Calabria, c'è la Calabria prima, aspetta. Calabria. Ma tutti i sogni nell'alba non finiscono perché. Toscana. Quando tramonta la luna li porta con sé. Sardegna. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli. Sicilia. Caso lo blu, come cielo, già pondo delle stelle. Faccio un dolare. Vette le dell'arriode qua. Zalando, te caccio via eh. Devo la 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 la. Ma vabbè, però in compenso ci stanno tanti vantaggi con l'autostrada. Eh, per esempio ti regalano questo. Ma che è sto coso? E come che è? Eh, io lo stavo tutto. Un telepass. Certo. Con i piumi. Eh, beh, è un telepass da sera. Il telepass era. Ma smettila, smettila. Allora ho chiamato Silvia, mi chiamato Silvia. Lo sai che mi ha detto? E mi ha detto che ti ha detto? Mi ha detto vabbè, secondo te che vuol dire? Secondo me c'è un'altra. Oh, vedi, io sapevo, sapevo, sapevo. Come funziona la cioccolata con le donne? Un minuto sulla bocca non ne è messo sul culo. Come funziona? E in quel momento tu, donna, ripensi una cosa che ti ha sempre detto la mamma. E alla mamma io dice alla nonna. E alla nonna io dice alla nonna. Non ti appoggiare la tavoletta. Cosa stanno le microbie? Quello culo di nonna, quello di mamma, quello di sorda, non ne hanno mai toccato una tavoletta. Noi le tavolette non le toccamo. Perché tronco sì, ma le tavolette... Ma la forza smisurata, una passione esagerata, una fiamma che sta nel mio cuor. Una fiamma che sta nel mio cuor. Una fiamma che io dentro al cuor. Grazie!